Due serate per orare la causa dell'Africa Chiama e non scordarsi del continente africano. Due serate che facciamo ormai da 15 anni per presentare, illustrare i progetti che l'Africa Chiama ha attivato in Kenya, Tanzania e Zambia per circa 18.000 persone, principalmente per le fasci più deboli della popolazione, come i bambini, i ragazzi, che hanno bisogno del nostro aiuto per crescere in un ambiente sano e per avere un futuro migliore. Per testimoniare questi progetti così importanti dell'Africa Chiama, anche il veicolo attraverso il quale portate la vostra voce, ovvero i testimonial, sono importanti. Chi sono e cosa verrà in queste due giornate? Ma noi cerchiamo in queste due giornate di coinvolgere il tessuto associativo e comunque la comunità che ci ospita, quindi tutta Fano. E abbiamo accolto con piacere il fatto che ci siano ospiti alle due serate, Giuseppe Ottaviani, Ivan Cottini e anche Stefano Fucili. Quindi delle personalità importanti perché veicolano un messaggio, quindi testimonial di positività, di ottimismo, che è un po' il messaggio che vogliamo dare. Sì, parlare di Africa, ma non con le tenebre, ma insomma con il sorriso, perché l'Africa è qualcosa di bello. E c'è anche un progetto ben preciso che è finalizzato, una raccolta fondi. Certo, è il progetto Guardare al Domani per aprire e comunque portare avanti un reparto di oculistica in Zambia, in una clinica, che è la clinica Shalom, all'Usaka. È il progetto che stiamo insomma diffondendo, proprio perché curare e prevenire la cecità è possibile e questo dà la possibilità di sperare in un futuro migliore per tanti bambini in Zambia. Tutti i dettagli, sia delle due giornate che sono venerdì 5 e sabato 6 agosto a Fano, sul lungomare della Sassonia, presso l'Anfiteatro Rastat, che per avere dettagli e capire anche come poter supportare, perché tutti possono fare qualcosa in modo concreto e immediato il progetto Guardare al Domani, potete vedere il nostro sito che è www.lafricachiama.org e appunto prendere lì tutte le informazioni o chiamarci senza problemi.